Una sesta edizione della Marcia della Pace è intitolata simbolicamente a Vittorio Arrigoni e Samuel Colavita, molisano attivista scomparso lo scorso anno. Come sempre tante le associazioni civiche che hanno aderito alla manifestazione patrocinata dalla provincia, dal comune di Campobasso, dal comune di Matrice e dalla regione molise. La soluzione pacifica delle controverse internazionali, l'anticolonialismo, l'antimperialismo, l'autodeterminazione dei popoli, la gestione comune dei beni di pubblica utilità, la democrazia realmente partecipativa, la libera informazione, sono i temi a cui la marcia è stata dedicata. E in questo particolare momento storico non si può non pensare alla drammatica situazione medio orientale, in particolare siriana. Quello che sta accadendo in Siria, in Egitto, in Afghanistan, in tante parti dell'Africa, ci riguarda direttamente. Anche se noi siamo piccoli e non abbiamo gli strumenti dei grandi della terra, abbiamo la responsabilità di provare a vivere da protagonisti questo nostro mondo che sta cambiando. E vogliamo dire basta alla guerra, basta alla violenza, vogliamo impegnarci, fare qualche cosa di concreto per la pace. La marcia partita da Campobasso si è snodata lungo i tratturi fino a Santa Maria della Strada di Matrice. L'antica strada del greggio è scelta perché simbolo del passato e segno di riconoscimento del futuro, simbolo di particolarità del territorio che quando viene rispettato diventa rispetto anche per la dignità di chi ci vive. Una dignità che qualcuno invita a riscoprire nel nome della pace. Il desiderio è di riportare quelle antiche società matriarcali pacifiche dove avevano già trovato il ferro e i metalli però non veniva usato per fini di guerra ma per utilizzi quotidiani oppure per ornarsi il corpo di quelle simbologie di amore e di vita. Nella tavola osca trovata a Capracotta nel 1850 circa c'era il culto della Dea Kerres attuale più che mai in cui era sacra la natura, le relazioni tra gli individui e il corpo delle donne.